Oh, bentornati! Non vi ho visto, mi spiace. Sono Andy, questo è il mio amico Luca. Stiamo studiando questa bellissima vetrina che si vede qua collegata alla mura, anche con la luce elettrica dentro. È bellissimo. È un'idea BD Expo per mostrare i vostri prodotti. È facilissimo da usare. Infatti, Luca, il mio amico, ci fa vedere come facile è. Ovviamente abbiamo tutto il prodotto qua. Si vede come è compatto e arriva in questo modo. Il primo passo è mettere il top in posizione, allineando tutti i buchi con tutti i viti che si vede. Qua abbiamo quattro vite da infilare. Uno, due, tre e quattro. Abbiamo noi un trappone elettrico. E vedi qua come facile è veloce. Uno, due, tre, quattro. Adesso Luca sta per inserire questi cavi elettrici dentro questa parte qua che è stato lavorato per nascondere il cavo che ci vedi dopo. Poi siamo pronti a portarlo a dove vuoi montare il pezzo sulla mura. Qua noi abbiamo questi stand che abbiamo misurato a un'altezza che noi vogliamo montare questo pezzo. Però questi stand non arrivano con il prodotto, ovviamente. Allora dovete avere qualcosa simile misurato per aiutarvi a montare il pezzo sulla mura. Qua con questi viti stiamo collegando il pezzo alla mura. Adesso è completamente collegato. Qua abbiamo i nostri bellissimi luci elettrici che vanno dentro i buchi che si vede che sono stato lavorato. Qua abbiamo il cavo che collega il corrente principale. Adesso si vede che le luci sono accesi. Ahah, bellissimo! Il prossimo passo è prendere questo pezzo che va inserito in fondo. L'idea di questo pezzo che Luca sta usando è nascondere i cavi per rendere tutto il pezzo più bello. Ovviamente non vedendo e guardando, non si fa vedere i cavi elettrici. Si nasconde tutto il cavo extra che si vede in cima, indietro di questo pezzo. Guarda, guarda l'effetto, è bellissimo. Adesso stiamo per rimuovere i stand. Si vede che facilmente sta collegato alla mura completamente da solo. Immaginate che volete mostrare un prodotto, magari qualcosa di simile a questo. E l'ultimo passo è inserire questo plastica. E adesso è finito. Guarda come facile è, velocissimo. È bellissimo. Ho un'altra idea meravigliosa da BD Expo.